Tirare fuori alla luce del sole la propria omosessualità non è mai stato facile, tantomeno in famiglia o nel posto di lavoro. A viverla come un peccato, Maria Laura Annibali, oggi garante per le pari opportunità la Regione Lazio, dirigente di Gay Project e volontaria nell'associazione che si occupa di sclerosi multipla. Oggi, a 64 anni, ha realizzato un documentario, L'altra, altra metà del cielo, raccogliendo l'esperienza di altre donne lesbiche. Laura ha deciso di raccontare a noi la sua storia e la sua doppia vita e del perché, religiosissima, poter prendere la comunione solo nel 2000. Avevo avuto anche un amore adolescenziale che non fa testo per una mia compagna di scuola, assolutamente platonico, ma avevamo letto Il Pozzo della Solitudine, un libro bellissimo che io consiglio a tutti, etero o uomo che sia, e questo libro fu un po' come invece dice Dante, fu galeotto, però non c'è stato naturalmente a 13 anni assolutamente niente, platonico, ma bello, pulito, poetico, meraviglioso. Mi hanno scoperto per una lettera che io stavo in villeggiatura, che ho mandato a questa mia compagnuccia di classe, e il padre di questa ragazza, questa compagna di classe è andata da mia madre, mia madre mi ha pistato le botte e presumo che anche lei ne ha prese quante ne ha volute, eppure quelle che non voleva e ci hanno separato perché lei ha cambiato scuola l'anno successivo. E poi diciamo che lavoravo per le finanze in un ambiente molto omofobico, io mi sono liberato a 55 anni quando mi sono dimessa e questo ha condizionato molto la mia vita. Ho preferito farmi passare in quegli anni da donna poco per bene, piuttosto che dire la mia realtà. Tutti sapevano che avevo un rapporto sentimentale importantissimo con un uomo politico di secondo piano che aveva famiglia. Io in realtà stavo con una donna, la donna che semmai vedevano era mia cognata. Io ho avuto questa grande storia d'amore perché è durata 23 anni, parliamo dal 77 al 99, ero molto osservante, quindi non facevo la comunione perché stavo in peccato mortale naturalmente, perché la Chiesa condanna non tanto l'omosessualità come tale, ma condanna la sensualità, la sessualità nel rapporto omosessuale. Ho trovato un sacerdote molto illuminato, era uno straniero, mi ha dato la soluzione e io ho fatto la comunione. A Roma sono molte le associazioni e i circoli che riuniscono LGBTQ. Nel 1989 il Circolo Culturale Mario Mieli organizzò per primo a Roma un servizio di assistenza domiciliare per persone malate di AIDS. I soldi però erano pochi, ma il transgender appena approdata nella capitale Vladimir Luxuria ha un'idea per autofinanziarsi. Niente di meglio di una festa per rivendicare diritti e voglia di vivere. Nasce Mucca Assassina, in poco tempo il successo è clamoroso. Tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta ho conosciuto il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli e quando entrai la prima volta nella sede del Circolo sullo Stiense rimasi colpita, colpita da una goccia di pioggia che cadeva dal tetto perché c'era il tetto sfondato. Le condizioni economiche del Circolo Mario Mieli erano disastrose. La prima riunione a cui partecipai mi chiesero 50.000 lire per autofinanziare il Circolo. Conobbi tutte le attività, non solo quelle politiche sociali, ma soprattutto le attività di prevenzione ai DS, anche l'assistenza domiciliare ai malati di DS. E allora frequentando il Circolo pensai che ci poteva essere una forma di autofinanziamento attraverso una festa in discoteca. E da lì nacque Mucca Assassina. Mucca Assassina con la mucca perché il primo luogo che ci ha dato credibilità, che ci ha dato accoglienza, è stato il Centro Sociale. Mentre tutte le altre discoteche appena sentivano che veniva specificata la parola omosessuale storcevano un po' il naso a quel tempo. E il Centro Sociale che ci ospitò fu il Villaggio Globale, nella zona dell'ex mattatoio, quindi dove venivano uccise le mucche, e da lì uscì fuori il nome Mucca Assassina, una specie di mucca vendicativa così, ma in realtà perché ci piaceva anche il suono del nome, era abbastanza intrigante il nome. Le prime feste furono feste per pochi, non veniva moltissima gente. All'inizio meglio quello che niente, e perché non solo era un posto dove almeno qualche spicciolo riuscivamo a tirarlo, ma era anche un luogo dove potevamo avere un banchetto, dove avere materiale anche informativo sull'attività del Mario Mieli, quindi serviva anche a reclutare un po' di militanza, per raccontarla così. Mentre poi ha cominciato a venire più gente, e man mano questa festa, che non ha mai avuto una discoteca di proprietà, ma era un po' itinerante, occupavamo varie discoteche, un po' come i paguri che ho trovato sull'isola dei famosi, che occupavano le varie conchiglie vuote, noi occupavamo vari locali. Poi è cominciato il successo di Mucca Assassina. Siamo qui intorno al 1992, al castello a Borgopio, a due passi dal Vaticano, che pensa era una struttura di proprietà del Vaticano, che ha avuto vari destini. La gente cominciava ad avere meno paranoia per venirci, meno paranoia ad andare in un luogo dichiaratamente gay, lesbo gay trans, e quindi cominciava a venire parecchia gente. Io all'epoca ricordo che lavoravo come volontaria alla Porta, facevo un servizio d'accoglienza, ed è stato nel 1993 che invece da volontaria sono diventata direttrice artistica. Poi il Mucca Assassina si è spostato in vari altri locali, il Palladium, alla Garbatella, poi neanche più il Palladium riusciva a contenere tutta la gente che doveva venire, che voleva venire, e quindi ci siamo dovuti spostare in discoteche più grandi. Da cosa nasce cosa, e Luxuria decide di portare anche in Italia la manifestazione dell'orgoglio gay. Così nel 1994 a Roma si terrà il primo Gay Pride italiano, e nel 2000, anno di giubileo, per il World Pride, oltre 500.000 persone sfileranno con carri e musica per le vie della capitale. Credo che sia stato uno dei periodi più belli della mia vita, perché, insomma, contribuire a far nascere storicamente il Gay Pride in Italia, nel 1993, insieme all'attuale segretario del Mario Mieli, Andrea Berardi Curti, in arte, la Carlo Di Pignè, diciamo una cosa molto semplice, ma perché in quasi tutte le capitali del resto del mondo occidentale si fanno i Gay Pride, e qui a Roma ancora no, e all'inizio ci fu un po' di titubanza. Poi devo dire anche Imma Battaglia, che allora era la Presidente del Mario Mieli, fu allettata dall'idea, e man mano anche all'Archigay si unì a noi, e quindi tutti insieme decidemmo di organizzare per la prima volta un Gay Pride nel 1994. E l'abbiamo organizzato con tanto entusiasmo, con pochissimi soldi, e con tanta paura anche, cioè la paura che fosse un flop. E invece io ricordo che la prima volta ci furono 20.000 persone, e un po' così come è successo per il Gay Pride del 2000, ci dette una grande mano il Vaticano, che ci hanno fatto un po' da ufficio stampa, perché quando, diciamo dopo la famosa risoluzione di Strasburgo, in cui per la prima volta il Parlamento europeo invitava gli stati membri dell'Unione europea a varare delle leggi che riconoscessero le unioni civili anche per le coppie omosessuali, il Papa, all'epoca appunto woitigua, dalla finestra del Vaticano, tuonò contro appunto questa risoluzione di Strasburgo, e quindi dette veramente adito a noi di pubblicizzarci, perché la piattaforma politica del primo Gay Pride, come purtroppo poi di tutti gli altri Gay Pride, visto che da un punto di vista legislativo non è stato fatto nulla, è stato sempre quello di riconoscere l'affettività delle coppie omosessuali anche da un punto di vista giuridico. Certo all'epoca non abbiamo mai immaginato che un giorno potevamo organizzare un World Pride, un Gay Pride mondiale proprio a Roma nel 2000, con la presenza di mezzo milione di persone, o che nel 2007 il Gay Pride con che si era concluso a piazza San Giovanni potesse superare come numero il famoso Family Day organizzato nella stessa piazza. Il primo dicembre 2008 il Vaticano ha chiesto all'ONU di non accogliere la proposta dell'Unione Europea sulla depenalizzazione dell'omosessualità. L'omosessualità è reato in 81 paesi del mondo, in nove nazioni, tra le quali Iran, Afghanistan, Arabia Saudita, è punita con la condanna a morte, in altre nove con il carcere a vita o i lavori forzati. Sono tante ancora le storie che vogliamo raccontare. Appuntamento alla prossima settimana con le orecchie ben aperte. Memo Pop, la storia raccontata alla radio, in onda il sabato alle 10.40 e domenica alle 13.20. Da Natalia Marino grazie a Chessato L'Ascolto, per non dimenticare. a Chessato L'Ascolto,